Ciao, buongiorno, dovremmo essere live con nuova puntata diretta sul gruppo Big Business, scusate, l'accademia pensata per far diventare grandi le microimprese. Oggi parliamo di social e in particolare di vendita con i social, quindi su come poter realizzare o sperimentare vendite di prodotti, di servizi, di e-commerce, ora vediamo un po' tutto insieme, come riuscire a vendere, diceva appunto. Quindi iniziamo sul gruppo, potete condividere, potete fare commenti, più la riunione interattiva e più ci divertiamo. Io partirò da tutta una serie di domande che sono un po' le domande che ci fanno i clienti quando siamo in giro e niente. Quindi se ci sono informazioni e commenti benvengano che iniziamo subito. Allora, partiamo dalla domanda forse delle domande. Ha senso per una microimpresa, per una piccola attività, per un negozio di commercio a dettaglio locale, brick and mortar direbbero gli inglesi, provare a vendere online? Perché diciamo il falso mito un po' che si è creato è che vendere online è per le grandi imprese, che Amazon è il mostro cattivo che ci ruba le vendite, in realtà non è così, secondo me, e che comunque non ci sono i budget per le piccole imprese, per le piccole attività per poter stare online. Ecco, è appunto un falso mito, secondo me dalla nostra esperienza in realtà è molto possibile e quindi rispondendo alla domanda ha molto senso che una piccola impresa sia e stia online per vendere i propri prodotti. Facciamo un esempio, ho un negozio di abbigliamento, devo farmi l'e-commerce, vendo tramite Facebook Shop, vendo tramite Instagram, utilizzo tutte e due, che sarebbe l'idea migliore. Quindi la possibilità c'è, è chiaro che il mercato è ipercompetitivo, ci sono anche, ora dopo lo vediamo meglio, dei contro, o più che contro diciamo delle precauzioni per l'uso, che sono importanti sapere, online non significa gratis, questo è un altro falso mito, cioè persone pensano di portare il negozio online perché costa meno. In realtà non è proprio così, bisogna mettersi d'accordo su un po' di parametri e su una strategia adeguata, però diciamo la possibilità è aperta a tutti e oggi ci sono ovviamente un sacco di strumenti. Allora oggi parliamo appunto di social, quindi il primo strumento che dovreste considerare è appunto l'utilizzo di Facebook, Instagram, TikTok, rimaniamo tanto su Facebook e Instagram per sperimentare e aumentare le vostre vendite. Come si fa? Primo passaggio è creare il Facebook shop, quindi entrati una volta nella vostra pagina, dovete andare su settings, nelle tab potete, se siete un'attività di commercio a dettaglio, impostare ed attivare la tab shop. Lì potete caricare i vostri prodotti. Meglio ancora, se avete già un e-commerce, su qualsiasi piattaforma che sia stata fatta, che sia Shopify, che sia WooCommerce, che sia PrestaShop, che sia Magento, integrare immediatamente dopo il vostro e-commerce con la vostra pagina Facebook. In questa maniera che cosa andrete ad attivare? Ecco, vi sarà capitato magari su Instagram, ok? Vedete un estetista vende prodotti a marchio e trovate il link con il prezzo del prodotto direttamente sul post. Cliccando su quel post si apre immediatamente la pagina di vendita. Ecco, per fare questa operazione e per poter attivare campagne che vanno ad aumentare l'interazione con questo tipo di azioni e quindi di vendite, è necessario che i due sistemi siano integrati. Ora, non è così banale, però se avete un sito immagino che un tecnico vi abbia dato una mano nel crearlo, ok? Quindi parlate con il vostro tecnico e chiedetegli l'integrazione dell'e-commerce con Facebook Shop. In questa maniera, come dicevo prima, potrete andare ad attivare i link diretti sui prodotti nei post che poi andrete ad inserire. Ci sono poi un sacco di possibilità che, per chi continuerà a seguirci, poi svilupperemo sempre più nel dettaglio Facebook da questo punto di vista, è un ottimo strumento anche di integrazione. A proparentesi, è vero che i dati di tracciamento con l'aggiornamento iOS 14 sono profondamente cambiati, c'è tutta una rivoluzione in corso, proprio in questo preciso momento, ma questo non ci toglie dal comunque poter verificare in maniera corretta le conversioni. Dicevo, Facebook grazie al business manager dà la possibilità di attivare tutta una serie di campagne. Quindi, prima domanda, per una piccola attività ha senso buttarsi online per vendere? La risposta è assolutamente sì, ci sono un sacco di possibilità. quella dei social forse è la più breve e la più semplice da poter gestire, perché immagino che già abbiate un po' di familiarità con lo strumento, ne abbiamo parlato anche due dirette fa, quando ero io con Annalisa, parlavamo proprio dell'importanza nelle campagne, l'argomento era Google, ma poi siamo entrati anche nel discorso Facebook, quindi l'importanza di dover utilizzare i social come strumento di acquisizione clienti. Ecco, se già avete un po' di familiarità, il primo passaggio è proprio quello. Prima ancora di creare un e-commerce. E allora passa la seconda domanda che potremmo farci. Quali sono i passaggi, cioè cos'è, da dove iniziare? Diciamo così. Tanto saluto Aldo che ci saluta, vi rinnovo l'interazione con la diretta, quindi se ci sono domande, se avete anche esempi di vostre attività di cui volete parlare, ne parliamo più che volentieri. Dicevo, quali sono allora le prime cose da fare? Beh, intanto avere un sito. Vi serve un sito vostro, con i vostri prodotti, con i vostri servizi, perché è una buonissima idea poter vendere, non pensate solo lato e-commerce puro, ok? Va bene, ok? Ma non pensate lato e-commerce puro, perché posso vendere servizi. Vi faccio, buonasera Alessandra, saluto Alessandra, vi faccio un esempio di clienti che abbiamo gestito e che funzionano molto bene. Vendere con i social potrebbe trattarsi di vendita di un servizio. Facciamo un esempio dell'estetista, nel caso dell'estetista. Noi vendiamo un sacco di epilazioni definitive con il laser attraverso i social, e-commerce. Quindi non esiste un e-commerce, propriamente detto, ma esiste un sito ed esistono le campagne di generazione contatti che, strategia di offerta alla base, ci permettono di intercettare persone potenzialmente interessate a quel servizio. Quindi recuperiamo le informazioni, nome, cognome, mail e telefono. Fissiamo un appuntamento, tutto passa attraverso Facebook, questa è la particolarità e la semplicità. Le persone da Facebook arrivano direttamente dall'estetista in centro, lì poi arriva la conversione vera e propria. Si tratta però comunque di una vendita attraverso i social, ok? E vi posso dire, tutelo la privacy dei nostri clienti, ma che questa operazione funziona benissimo e a costi molto bassi, siamo sotto i 15 euro a contatto, contatto pagante, cioè cliente, non parlo di lead, parlo di cliente che è arrivato tramite Facebook e che è stato convertito in cliente pagante. E si parla, spesso e volentieri, le signore, penso, ne veniamo molto anche gli uomini nell'ultimo periodo, però diciamo l'equilazione definitiva, il mondo dell'estetista è più vicino alle signore e sanno benissimo che con un laser si può arrivare a spendere anche dalle 5, 6, 700 fino a 1000 euro per un trattamento completo. Quindi servizi ai ticket all'interno del listino di servizi di un estetista. Tutto parte però da una campagna Facebook di acquisizione clienti. Quindi vendere servizi su social è fattibilissimo, non vi serve chissà quali strumenti ipertecnologici. Vendo prodotti, micro e-commerce, lì si apre l'enorme ventaglio di possibilità. L'enorme ventaglio di possibilità, dicevo, a partire da Shopify, che con un fee mensile di Xero, mi pare che è parte da 25, non ricordo, però comunque diciamo facilmente gestibile, dal punto di vista economico, vi permette di avere il vostro e-commerce, ve lo personalizzate, e lo integrate con i social, come si diceva prima, e incominciate a vendere. A salire a strumenti più, non voglio dire voluti, perché in realtà non è quella la differenza, però diciamo, se ho un gestionale con migliaia di prodotti, allora Shopify forse comincia a fare fatica. E allora è bene che passi a calibri più pesanti, diciamo così, come possono essere PrestaShop, o può essere Magento. Io qui non vi devo vendere niente, quindi non vi sto di quale utilizziamo noi, siamo in grado di gestirli un po' tutti, e spesso arriva il cliente con il sito già fatto, noi non gli andiamo a dire, ma il sito va rifatto da zero, eccetera, eccetera. Non mi interessa, il sito è fatto in maniera decente, ha bisogno solo di ritocchi, si lavora sulla piattaforma che è stata scelta in precedenza. Dicevo, se avete già un gestionale, gestite migliaia di clienti, migliaia di prodotti, scusatemi, e allora lì serve una potenza di fuoco un po' più alta, allora forse passerei PrestaShop e Magento. Rimane, WooCommerce rimane un po' l'anello di congiunzione, si sta sviluppando moltissimo, e WooCommerce, perché nel settore è la parte e-commerce di WordPress, è in continuo sviluppo e cresciuto molto negli ultimi periodi, può essere una validissima alternativa, magari se avete già un sito sviluppato in WordPress. Quindi le soluzioni sono tante, ok? Il mio consiglio è di sentire almeno due o tre campane di professionisti, di agenzie, e valutare davvero quello che serve a voi, in base alle dimensioni del vostro store o dei prodotti che volete inserire. Se vendete 10 prodotti, PrestaShop francamente può uccidere le mosche con cannoni, cioè non ha molto senso. Quindi state attenti all'agenzia che vi vuole vendere per forza un determinato prodotto o servizio, perché loro sono abituati a gestire solo quello, e viceversa. Se ho un gestionale che tutte le notte ha bisogno di caricare 3.000 prodotti, quindi è chiaro che lì strumenti troppo basic fanno fatica. Punto ancora prima, molto importante quando si parla di commerce è l'hosting. Vi dovete perdonare, dobbiamo fare un piccolo discursus tecnico, ma è fondamentale. Qual è il problema? È che quando incontriamo un nuovo cliente che ha già un hosting, di solito quell'hosting è quello che si chiama come una famosa isola dei Caraibi. Ora, premesso che ognuno fa un po' come gli pare, ma non è una grandissima idea, perché l'hosting non va comprato perché costa meno, ma va comprato in base a quello che ti serve. Mi spiego meglio. L'hosting è elemento fondamentale in un sito. Perché? Perché la velocità, la velocità di caricamento, l'inceppamento che se volentieri serve, dipende dall'hosting. L'hosting è dove viene ospitato fisicamente il server dove sta sopra il vostro sito. Se questo è di scarsa qualità, di bassa qualità, il sito ha dei problemi. Se questo è di bassa qualità, il sito è lento. Se è lento Google se ne accorge e Google vi penalizza. Se è lento e si parla di e-commerce, le persone clicco su un prodotto, non mi si apre la pagina, le persone vanno via e vanno a comprare da un altro. Quindi influenza direttamente le vendite. Quindi non è l'ultima ruota del carro l'e-commerce. Il motore è la cilindrata. Se pensate di vendere, rimango nella metafora motociclistica, automobilistica. Se pensate di vendere 3.000, di avere 5.000 prodotti sul sito, ok? Ma utilizzare una cilindrata da 100 è chiaro che si crea un problema, un problema tecnologico. 5.000 prodotti con 100 di disponibilità non stanno in piedi. Ho bisogno di una potenza di fuoco maggiore. Quindi di hosting, di server con performance molto, molto, molto più elevate. Quindi è molto importante. Non davvero, questo credetemi, prendetemi sulla parola e sulla fiducia, non scegliete quello che costa meno solo perché costa meno, ok? Questo va anche solo per gli e-commerce. Quindi, primo passaggio, scelta del hosting. Scelto l'hosting, scelta della piattaforma di e-commerce. Abbiamo citato i quattro più famosi, ti ripeto, Shopify, WooCommerce, PrestaShop e Magenta. Ne sono nati altri, se cercate e-commerce vai da te, mi sapre un mondo. Ma io rimanerei su questi quattro. E niente. Dopo si passa alle integrazioni, dopo si passa alle vendite, dopo si passa anche ad ArtDirect, che faremo magari con temi più verticali su come aumentare le vendite su queste piattaforme. Quindi abbiamo detto, da dove si parte? Si parte dall'hosting. Scelto l'hosting, si sceglie la piattaforma. Ovviamente le due scelte sono strettamente correlate. E poi integrazione, primo passaggio, integrazione con i social. Se non siete in grado di farlo da soli, vi basta sentire lo stesso tecnico che vi ha gestito la realizzazione del sito e siete pronti, prontissimi a vendere online. Potrebbe nascere allora una terza domanda. Ma quindi l'e-commerce è necessario da subito o ci sono altre vie? Allora, è una domanda intelligente, che merita un approfondimento. Io direi due strade. Ora, non vi voglio spaventare, però secondo me, chi vi racconta che si può vendere online in maniera importante con 500 euro, 1000 euro, vi sta prendendo in giro. Vi sta prendendo in giro perché se avete un e-commerce, non vi ha detto che un e-commerce senza campagne non esiste. Quindi la vera benzina, i commessi, diciamo così, non ho un negozio fisico, non pago commessi, è tra virgolette, perché in realtà li paghi sono le campagne che ti servono per portare traffico sulla piattaforma. E qui non si parla di 5 euro al giorno. Cioè io sotto i 50 fai già fatica su un e-commerce di livello nazionale, diciamo voglio vendere prodotti in tutta Italia, sotto i 50 euro al giorno si fa fatica, quindi 50 euro al giorno vuol dire un investimento minimo di 1500 euro solo per i social. Escuso Google. È chiaro che se a queste cifre non ci arrivate, ci si può arrivare nel lungo periodo, partiamo da una base di 1000, ma più scendete e meno vendete, cioè è un'equazione troppo direttamente proporzionale. Quindi quel budget lo dovete considerare. Non considero i costi d'agenzia, ve lo fate da soli, siete bravissimi, va tutto bene, ma la benzina al sito serve, cioè le campagne. Quindi non è vero che un sito e-commerce è economico. Stare online costa, i competitor sono aggueritissimi e arrabbiati, quindi spendono molto più di voi, e quindi vi serve davvero delle capacità notevoli che potete però comprare, cioè non sono un esperto di Facebook Ads, ma so che Facebook può essere la chiave di volta del mio e-commerce, hai bisogno di rivolgerti a un professionista di Facebook Ads, perché sennò da solo non riusciresti mai a vendere. Quindi, l'e-commerce è necessario da subito? Beh, dipende, se hai prodotti e hai un buon magazzino di prodotti, io sì, partirei subito dal sito, se vendi servizi, o sei una piccola attività locale, o sei un negozio, come dicevo prima, ad abbigliamento, ma non ho bell'età di costruire l'e-commerce, e avrebbe alcun senso per un piccolo negozio non starsi a costruire, cioè vai a fare concorrenza a Zalanda e Yux, che l'idea è questa, l'idea straordinaria è andare a vendere, creare un mega sito che possa fare concorrenza a Zalanda e Yux, beh, la vedo un po' dura, ha più senso forse, mettersi su Zalando, perché puoi vendere su Zalando anche come partner esterno, come potresti fare su Amazon, e vale lo stesso principio per altri tipi di prodotto, magari non per persone che non vendono l'abbigliamento. però posso costruire una piccola macchina, come si diceva prima, che mi permetta di vendere sui social, quindi costruire anche un piccolo sito, giusto come base d'appoggio per avere i link che poi mi serviranno per andare a spingere le vendite online. Uno. Due. Avere comunque un sito mi permette di avere il link, avere il link mi permette di poter fare buona attività, di follow up e di andare a vendere ai miei clienti, quindi non uso tanto il sito per accendere la gara o competere con i grandi marketplace, ma utilizzo il sito per aumentare le vendite fra i miei già clienti. E questa è un'idea molto strategica. Allora lì vale la pena magari fare un investimento, vediamoci un range, dentro 10.000 euro, che penso per un'attività sono cifre comunque sostenibili, tanto te la ripaghi nel tempo, se poi più bassa meglio per voi, però allora in quel caso non starei tanto a investire su ads di livello nazionale dove davvero la battaglia complessa e complicata, ma potrei utilizzare il sito per respingere le vendite con i miei già clienti. Questo ad esempio è un po' quello che è successo, spero sia successo a molti di voi con il lockdown. Quando hanno chiuso, se mi sbaglio, già dalla zona arancione, sicuramente nella zona rossa, ma se non ricordo male già dalla zona arancione, i negozi di abbigliamento devono stare chiusi. Ecco, però puoi vendere tramite Whatsapp o tramite online. avere un sito alle spalle che negozio chiuso posso informare attraverso la lista ai miei clienti dei prodotti che ho, mi crea offerte, ne so, ovviamente io penserei a un rimborso del tipo ti porto la roba, la scegli, magari ne scegli di più, te ne provi un po', quella che poi ti piace e me la paghi, il resto me la venga a riprendere. Cioè, trasportare nel locale, questa è una buona idea, trasportare nel locale l'idea di outfittery. Conoscete outfittery? Non conoscete outfittery? Qualcuno ne abbia sentito parlare? E' uguale. Cosa fa outfittery? Outfittery è un e-commerce, ma ha cambiato un po' le regole del gioco. Cioè, te non compri prodotti, come compri su Zalando, Yux, o qualsiasi altra piattaforma, ma dici ad outfittery qual è il tuo stile e cosa stai cercando in particolare. Magari dici, guarda, io ho bisogno di un po' di abbigliamento casual per il fine settimana. Ok? Sono abituato a vestirmi così, cioè ti fa tutta una serie di domande, devi impilare un questionario, insomma, ti chiede informazioni su di te, sul tuo stile, su cosa ti piace, colori, eccetera, 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 taglie e ti mandano loro, i loro personal shopper, sulla base delle informazioni che gli ha dato, scelgano loro per te degli esempi di stile, di outfit, che ti arriva a casa, il pacco, ti provi tutto quello che loro hanno scelto, quello che scegli poi di acquistare, te lo tieni, il resto lo mandi indietro e loro ti scalano solo la parte di soldi dei prodotti che hai acquistato. ecco, questa roba, che ha un senso, funzionano, stanno vendendo sempre di più, perché non portarla nel locale? Che ti serve? Niente, ti basta la lista dei tuoi clienti, puoi fare, io immagino qualcuno lo faccia già, su WhatsApp, gli dici, guarda, cerco qualcosa per la cerimonia, perfetto, guarda, ti mando tre proposte, te le faccio arrivare a casa, te le provi, le guardiamo insieme, scegli quella che ti piace, mi porto via il resto e fine, e hai venduto. Questa, penso, possa essere un'idea molto strategica che con un piccolo sito, non vi serve, ripeto, il Zalando Bis, con un piccolo sito che un po' inventiva e con un follow up fatto bene tramite WhatsApp, tramite Messenger, tramite mail, tu possa sfruttare per aumentare le tue vendite. Quindi, i social mi servono per creare il contatto, per mantenere l'attivo, per poi portare la conversione. Ok? Quindi, ma quindi, dicevo, diciamo, chiamiamolo il sistema Outfittery portato nel locale. Questa potrebbe essere una buonissima idea. quindi, e-commerce necessario, sì, se hai, se il tuo lavoro è vendere prodotti, se ne hai tanti, no, ma sarebbe meglio di sì, diciamo, un e-commerce in forma ridotta, perché comunque avere il link ci dà la possibilità di vendere alla nostra lista clienti. Quindi, anche se non ho i budget, o se non ho l'esigenza di dover integrare un gestionale da migliaia di prodotti, avere comunque una piattaforma tua, personale, e qui ora arriva un altro punto fondamentale, è assolutamente fondamentale. Qual è l'altro punto fondamentale? Ecco, molti arrivano da noi e bypassano il sito, diciamo, meglio tanto vengono su Facebook, e quindi utilizzano il Facebook, anzi, utilizzano Facebook come il loro e-commerce vero e proprio. E qui, secondo me, signori, commettete un errore. Perché? Perché, come consiglio sempre, io vorrei essere sempre proprietario in casa mia. Cioè, un e-commerce mio, nessuno me lo toglie, le regole le ho detto io, e faccio quello che mi vale. delegare tutto a un soggetto terzo, Facebook, per quanto fondamentale oggi nelle nostre strategie di vendita e di business, è un errore, perché domani cambiano tre virgole, Facebook decide di bannarci, con l'aggiornamento ad IOS 14, stanno bannando account come, con la stessa facilità con cui posso andare a prendere un gelato e quindi ti ritrovi senza nulla. Quindi fate molta attenzione a ma tanto io faccio tutto su Facebook. Io partirei dalla mia piattaforma, quindi e-commerce sì, nelle due versioni, chiamiamola versione ridotta, ma che mi permette di vendere online, comunque un sito, diciamo, ti serve un sito tuo, dove puoi vendere prodotti e servizi, se poi la struttura è particolarmente importante, passiamo a un e-commerce più importante. Quindi abbiamo detto, da dove si parte? E-commerce, ma l'abbiamo fatto diventare più un sito proprietario, sì, quali sono allora gli errori da commento? Ecco, il primo l'abbiamo appena accennato, non, facciamo l'elenco, problema da evitare numero uno, non, c'è una famosa legge nel business che è il numero peggiore nel business è l'uno, la legge dell'uno, che significa che è molto pericoloso avere un solo tipo di cliente, avere un solo fornitore, eccetera, 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 cioè l'uno ci crea un rischio, quindi dipendere in questo caso da una sola fonte di traffico e delegare tutto a Facebook o Instagram che siano è un errore, quindi il primo errore è proprio questo, pensare che una sola fonte mi possa risolvere i problemi, sbagliato, due, pensare che sia economico, lo accennavo anche prima, stare online non è gratis, ok, Facebook non è gratis, prima incominciate a vedere Facebook come un media a pagamento e meglio fate per voi, per la vostra salute di imprenditori o titolari di attività e meglio è, quindi Facebook è un media a pagamento a tutti gli effetti, costa sempre di più è già qualche anno che i prezzi triplicano di anno in anno, c'è proprio un aumento del 300% sui prezzi e quindi l'errore numero due è pensare che è gratis, l'errore numero tre è che potete gestire tutto da soli, ok, mai come in questo caso è necessario pagare persone competenti, è un po' come il losting, se pagate, Oghi vi diceva, se pagate noccioline attirerete scimmie, cioè se paghi poco o punto i risultati sono strettamente collegati, quindi delegate quello che non sapete, fare attività di Facebook Ads, cioè di campagna su Facebook, soprattutto se strutturate, quindi un e-commerce ha bisogno di campagne strutturate, è difficile, mi serve gente brava, brava con il copy, brava con la scelta dei parametri, degli obiettivi, è difficile, obiettivamente, ed è già difficile per noi che lavoriamo tutti i giorni in settori diversi dove spendiamo budget per i clienti, dove ci informiamo, dove studiamo, figurati per voi o per il titolare che da mattina alla sera è lì in negozio che lavora, dovreste a tempo di stare a studiare, cioè bene vada se hai fatto il corsettino da 60 euro, ma non è che diventi mega esperto di campagne, quindi delegate, delegate, ok, perché se decide, quando avete deciso di aprire la vostra attività, no, avrete fatto o per quanto banale o semplice un business plan e cosa avete deciso? Allora, l'affitto inviata al dettaglio mi costa X, l'acquisto della merce mi costa Y, mettiamo un commesso un dipendente mi costa Z, X più Y più Z mi arriva al conto di quanto più o meno posso spendere, incomincio a capire quanto posso vendere e quindi guadagnare e decido se aprire o meno. L'e-commerce vedetela come l'apertura di un nuovo punto vendita, quindi non ho il commesso e non è vero, l'ho detto prima, avete le campagne, quindi mille, mille e cinque più destinate meglio è al mese so che le devo destinare lì, l'hosting, mi costano evidentemente dai due e cinquanta fino a mille euro e li destino lì e così via, prodotti, ok, ce l'ho già comprato, quello chiesto, ok, però fatto sta che devo mettere tutti i costi prima di e non pensare ma tanto online costa meno, ma non è vero, costa di più, cioè per partire una cifra ragionevole da mettere a budget per il primo anno, non si parla di meno di 35 mila euro ma 50 ci si fa più vicino per i commerce strutturati ad un certo livello e quindi sono progetti di business importanti che possono rendere anche in breve tempo e farvi recuperare il ritorno sull'investimento in modo rapido e però quei soldi servono quindi errore numero 3 pensare che sia gratis e diciamo 3 bis o 4 pensare che potete fare tutto da soli non potete non succede potete fare 3 post su whatsapp che va bene per aiutarvi a vendere ma se volete crescere strutturare portare a scalare il vostro business avete bisogno di gente che che vi dà una mano errore numero a questo punto diciamo 5 pensare che i marketplace sono il nemico voi non state facendo la gara con amazon non state facendo vendarredamento penso non state facendo la gara con mano mano perché non c'è gara per quanto impegno ci possiate mettere per quanto budget possiate investire c'è gara nell'abbigliamento non c'è gara con Luisa via Roma mi dicono i più famosi con Zalando non c'è gara con questi allora posso farmi gli amici e questa è un'idea molto più interessante che significa che se vendo prodotti che si trovano su amazon potrei utilizzare amazon come frontend e quindi inserire i miei prodotti su amazon per acquisire clienti questa è una buona idea quindi invece che farci la guerra amazon lo sfrutto come alleato mano a mano io conosco i commerce per cui gestiamo le ads dove oggi oggi il 70% degli ordini arrivano da mano a mano ok quindi l'integrazione con i marketplace è una strategia importante per aumentare ed aiutare le vendite quindi non commettete l'errore di vedere nemici ovunque ma anzi molto spesso in questo caso è così il nemico in realtà è il tuo miglior alleato ok a seconda del prodotto cambia l'alleato ma il concetto rimane quindi mi dicevo ha più senso vendere su zalando che mettersi contro zalando ha più senso vendere su amazon che metterselo contro amazon ok quindi no a nemici ovunque ok si ad alleati ovunque quindi a livello di errori direi che più o meno ci siamo se non ci sono domande io continuo e vado avanti altrimenti benvengano che può essere molto interessante vi ripeto se avete vostri business mi volete chiedere riguardo alla vostra attività o al vostro settore benvenuti mi era appuntata un'altra domanda cosa fare per far conoscere il nostro e-commerce in realtà durante questa chiacchierata ne abbiamo già un po' parlato partiamo da due aspetti far conoscere i nostri e-commerce a chi questa è la prima domanda di tutti i nostri clienti dividiamo in due macro categorie chi è già cliente e chi non è ancora cliente quindi chi è già cliente come dicevo anche prima è il primo target da cui partire perché mi costa meno perché già mi conoscano e perché sono già pronti all'acquisto quindi come faccio per far conoscere il mio negozio con il follow up con il follow up significa con messenger quindi tramite i messaggi di facebook con whatsapp con le email in una semplice anzi in due semplici parole con la lista clienti che rimane rimarrà ad imperitura memoria lo strumento di business più importante che avete a disposizione allora prima parlavamo di vendere su social parliamo di un settore fra i più colpiti forse dalla pandemia che è quello della ristorazione con i nostri clienti con il nostro cliente in particolare penso a un cliente in particolare un piccolo ristorante di provincia qua non siamo in città siamo nella provincia della provincia in questo anno abbiamo collezionato circa 800 dati di contatto come vendere con i social vuoi conoscere il mio menu delivery o asporto clicca qua mi lasci email e telefono e io ti lascio il menu si fa lo scambio non mi affido a delivery a delivero o alle app di delivery ma creo la mia delivery perché io voglio i miei cioè li voglio per me i dati di contatto perché io so che sono il tesoro della mia azienda e quindi con questa semplicissima operazione semplicissima si fa con un post facebook fatto decente abbiamo collezionato circa 800 dati di contatto per un ristorante che significa che significa che quando lui manda una mail riceve circa 50 ordini è ampiamente risolto il problema della pandemia e vi ripeto si tratta della provincia della provincia quindi assolutamente fattibile per chiunque si vende anche così su social non pensate lo ripeto per l'ennesima volta all'e-commerce e basta chiunque ha bisogno di vendere ok quindi questo è un esempio e là dice dividiamo in due parto dai già clienti mi creo la lista cliente gli strumenti oggi a disposizione per fare un buon follow up ci sono e saranno sempre di più partite da me se gli whatsapp e le mail e quindi prima di tutto fate conoscere i vostri prodotti i vostri servizi i vostri e-commerce ai vostri clienti due passa all'altro fronte che sono i nuovi clienti ci arrivano in una maniera sola col traffico a pagamento e quindi come dicevamo con le ads con le ads su facebook con le ads su instagram con le ads cioè con le campagne su google sulla rete di ricerca sulla rete youtube vi consiglio di andare a vedere la diretta sia con me che con alessio dove abbiamo parlato di google delle campagne google per le attività locali ci ritorneremo sopra perché poi sostanzialmente è l'argomento che ha dena non si parla di marketing digitale è quello sulle campagne ma non avete altro lasciate perdere la sevo soprattutto per attività estremamente locali o arrivateci in un secondo momento il primo investimento vero da fare è sulle campagne e come vi dicevo prima più il business è strutturato più avete bisogno di gente che sape davvero dove e come metterci le mani quindi campagne campagne a pagamento traffico pay tutta la vita e lista clienti queste sono le due armi che faranno crescere ma crescere anche in maniera importante se date rette applicate il vostro business già da primi mesi quindi che dirvi e-commerce sì o comunque sito sì hosting performante occhi agli errori che abbiamo neccato prima e pensate sempre in due una campagna per i clienti una campagna per i nuovi clienti nuovi già clienti follow up nuovi clienti campagne e ads di gestione per la gestione scusatemi delle pagine dei profili del sito ritorneremo magari qui vale la pena secondo me già lanciare uno dei prossimi temi che è quello sul pixel perché poi il pixel che almeno lato facebook ci permette di ottimizzare e migliorare le vendite però direi che per oggi abbiamo fatto una bella chiacchierata mi scuso per i 10 minuti di ritardo ma ho avuto un problema con il cliente precedente se non ce l'avete fatto se l'avete dovuto andare via prima tanto il video rimane registrato potete vederlo e guardare quanto vi pare vi consiglio di commentare o comunque scriverci sul gruppo big business per avere altre informazioni o farci domande specifiche su quella che è la vostra attività e il vostro business noi stiamo ancora lavorando con con Alessia e Annalisa alla creazione dell'accademia riceverete presto notizie in tal senso io visto che non ci sono altre che non ci sono domande vi saluterei per ora appuntamento alla prossima live ci vediamo sul gruppo scrivetemi là a presto ciao a presto a presto a presto a presto a presto